Musica Buongiorno e bentrovati alla prima edizione della TG6. Apriamo con la cronaca giudiziaria. La Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura di Pescara a seguito della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d'Assise di Chieti nel processo per la megadiscarica dei veleni di Bussi. Bisogna passare dalla Corte d'Appello di L'Aquila ma è concreto il rischio che tutto finisca con la prescrizione. Alfredo Primante Il processo per la megadiscarica dei veleni di Bussi torna in appello all'Aquila e questa è la decisione presa dai giudici della prima sezione della Corte di Cassazione di Roma che hanno esaminato il respinto e il ricorso dei PM della Procura di Pescara, Mantini e Bellelli con il quale si chiedeva l'annullamento della sentenza di primo grado emessa dalla Corte d'Assise di Chieti che ha assolto i 19 imputati ex vertici della Montedison dal reato di avvelenamento delle acque dichiarando prescritto il reato di disastro ambientale derubricato da Doloso a Colposo. La Corte di Cassazione ha rigettato il tentativo della Procura di Pescara di evitare la prescrizione quindi ora la palla torna in Abruzzo nelle mani della Corte d'Appello di L'Aquila una palla che scotta perché le discariche tossiche di Bussi continuano ad inquinare dati arta alla mano e perché le polemiche continuano sia sulla bonifica mancata sia sulla sentenza di primo grado emessa dalla Corte presieduta dal giudice Camillo Romandini e a questo proposito la Procura di Campobasso ha archiviato il procedimento aperto sulle presunte pressioni del Presidente della Corte d'Assise sui giudici popolari per arrivare ad una sentenza di assoluzione insomma il processo su uno dei più grandi siti inquinanti d'Europa potrebbe diventare una gigantesca bolla di sapone per effetto della prescrizione lasciando gli abruzzesi senza risposte certe rispetto alle eventuali responsabilità ma quel che è peggio con i lavori di bonifica che non sono ancora partiti Mi aspetto che si faccia piena luce su quello che è accaduto spero che questa volta non ci siano problemi a processare chi ha fatto quei disastri ho detto in passato che Montesano era talmente forte che rappresentava anche un pezzo dello Stato e che lo Stato non si fa processare Siamo in attesa dei fatti concreti perché non è per il giustizialismo è affinché tutte le persone che governano questo territorio sappiano che non possono continuare a fare quello che si è fatto in questi anni 90 milioni di euro destinati alla banda ultralarga in Abruzzo il piano nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri indica il 2020 come termine ultimo per la copertura totale del territorio l'Abruzzo oggi si trova al 9,5% Francesca Romana Testi L'obiettivo è quello della copertura del 100% del territorio con la banda ultralarga l'Abruzzo ha 4 anni di tempo per adesso ci sono quelli che sono i piani soprattutto lo stanziamento di fondi 99 milioni puntualmente contrattualizzati a favore del superamento del divario digitale abruzzese avremo la copertura di tutti i territori dell'Abruzzo di tutte le cittadinanze era un risultato atteso, programmato adesso siamo nella condizione di incassarlo ci siamo occupati della banda larga e ultralarga in tutti i comuni ma ci siamo occupati anche di trovare idoneo gestore perché poi il punto è questo il gestore è idoneo e noi ci facciamo carico anche di sovraintendere di verificare, di fare in modo che queste tubazioni moderne poi non rimangano piene di niente ma ci sia il gestore che inietta la loro potentissima energia che è l'energia della velocità dell'informazione Attualmente qual è la copertura del territorio in Abruzzo? Praticamente è una copertura manchevole per 274 comuni un terzo dei comuni ha questo livello di servizio gli altri due terzi verranno raggiunti grazie a questa manovra finanziaria, amministrativa, tecnica e progettuale Il tour salva risparmiatori dei 5 Stelle lunedì sarà nell'Aquilano intanto arriva la conferma del presidente della BCC di Roma ad assorbire la banca di Teramo, Germana Dorazio Toccherà anche Pizzoli lunedì 21 marzo il tour salva risparmiatori che deputati del Movimento 5 Stelle della Commissione Finanze in Parlamento stanno portando in molte città italiane A Pizzoli oltre 1500 risparmiatori sono stati vittime del crack di Banca Etruria Il tour salva risparmiatori ha toccato la città di Chieti dove il caso Carichieti non è stato l'unico argomento dell'incontro che ha visto grande partecipazione di pubblico Si è parlato infatti di tutti gli argomenti relativi ai rischi reali che i cittadini corrono per i loro risparmi e gli argomenti del caso Banca Etruria Bail e di tutti i casi di Bad Bank Intanto spostandoci a Teramo dopo il salvataggio della banca padovana il gruppo BCC di Roma operante in maniera stabile nel territorio aquilano si dichiara disponibile ad assorbire la banca di Teramo se non ci sono alternative così dichiara il presidente Francesco Liberati Vorrei a questo proposito dire una cosa definitiva Noi siamo stati chiamati, interpellati dal consiglio d'amministrazione della banca di Teramo in ordine alla possibilità di una eventuale aggregazione tra loro e noi Il consiglio d'amministrazione ha valutato positivamente questa cosa ed ha iniziato questa due diligence che finirà da qualche giorno Ma attenzione, noi vogliamo essere molto chiari se qui c'è qualche banca nell'Abruzzo di credito cooperativo che ha la capacità patrimoniale, organizzativa di farlo benvenga, però che non si dica che noi non siamo abruzzesi a parte sul piano personale io sono abruzzese dalla nascita qui ad Aquila ho tanti bei ricordi mia moglie si è laureata qui all'Aquila ma poi quello che abbiamo fatto noi per l'Abruzzo e per questa provincia dell'Aquila abbiamo veramente fatto molto Il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli ieri ha visitato il carcere di Punta Penna Vasto una struttura modello ha commentato il sottosegretario con una casa lavoro che però non riesce a soddisfare le richieste di tutti i detenuti Il servizio Alla casa circondariale di Vasto sicuramente rappresenta un'eccellenza in questa struttura i detenuti vivono in celle che hanno due ambienti separati un ambiente giorno e un ambiente notte che è una cosa che credo sia una unicità nel nostro sistema carcerario Il problema del sovraffollamento è stato superato e anche l'Europa ce lo ha riconosciuto Certo che purtroppo questo è inevitabile ci sono delle strutture che sono in condizioni migliori e questa di Vasto certamente ne è un esempio e strutture che sono datate e sono in condizioni peggiori La casa lavoro è un insieme un contenitore di grandi fragilità per cui bisogna necessariamente che sia sollevata l'attenzione sulla povertà deve essere sollevata l'attenzione Noi produciamo l'olio più buono d'Italia perché è un olio puro buonissimo e l'internato effettivamente a contatto con la natura ritrova se stesso si tranquillizza tant'è vero che gli eventi critici negli ultimi tempi sono ridotti proprio a zero se non al minimo Un fondo per aiutare gli ex amministratori comunali di Rapino dopo la sentenza della Cassazione che li condanna a risarcire 120.000 euro i cittadini istituiscono un comitato spontaneo per sostenerli economicamente Vediamo Un comitato nato spontaneamente per dare supporto agli ex amministratori comunali di Rapino destinatari di una sentenza di condanna per danno erariale che la Corte dei Conti ha stimato in 120.000 euro A farne le spese sono Rocco Cocciaia ex sindaco Andrea Oliva ex vice sindaco e i consiglieri Sandrino Mascioli Rocco Cocciaia e Rosanna Mammarella nel frattempo deceduta Secondo i rappresentanti del comitato pro ex amministratori di Rapino si tratta di una condanna ingiusta che va a colpire i cittadini che hanno agito nel bene della collettività Al di là dell'aspetto puramente tecnico-giuridico noi ci siamo costituiti come associazione spontanea con lo scopo di fornire un aiuto economico a degli amici che sono stati colpiti da una sventura vera e propria perché durante l'espletamento del loro mandato non hanno approfittato mai assolutamente di denaro pubblico anzi hanno dato il loro tempo e anche risorse economiche alla amministrazione e oggi si trovano costretti a dover risarcire delle ingenti somme semplicemente perché hanno dovuto prendere delle decisioni in tal senso Per sostenere l'ex giunta di Rapino è stata aperta anche una raccolta fondi che vuole prestare soccorso a famiglie che oggi, dopo la sentenza della Corte dei Conti si trovano a dover sborsare una somma astronomica di tasca propria e infatti i contestati sono due Il primo riguarda l'affidamento a un professionista esterno di un incarico di responsabile tecnico l'altro invece di un accordo transattivo del contenzioso Sceovie Mamma Rosa comune di Rapino per perdita di chance avendo creato all'ente una perdita di occasioni favorevoli Abbiamo aperto un conto corrente presso l'Agenzia di Rapino della nuova Carichietti con un codice IBAN chiunque vuole può tranquillamente fare il proprio versamento nel rispetto di quello che ogni cittadino si sente di fare senza limiti, senza vincoli anche la somma più piccola è benvenuta perché dimostra solidarietà A Pescara ha presentato il progetto Una badante in condominio l'obiettivo è quello di dare servizi alla popolazione anziana con maggiori difficoltà Paolo Renzetti Nasce a Pescara la figura della badante di condominio un'iniziativa anche originale che nasce da una necessità importante Questo progetto ci è stato presentato da una cooperativa e noi lo stiamo condividendo con la NACI che è l'associazione degli amministratori di condominio per cui verranno individuati dei condomini nella città di Pescara dove inizialmente verrà messa una badante in maniera gratuita in prova per una quindicina di giorni che dovrebbe cercare di essere di ausilio e di supporto a tutte le persone presenti all'interno del condominio Sono pochi i nuclei familiari in grado di poter avere una badante fissa per cui in questa maniera qui si cerca di fare in modo di mettere all'interno del condominio una persona che si occupa dei bisogni di tutte le persone presenti all'interno del condominio quindi necessità di andare a fare la spesa di essere accompagnato dal medico di avere un'assistenza in casa anche notturna cercando di ridurre i costi per gli utenti e facendo in modo che si creino le possibilità di nuovi posti di lavoro questa cooperativa con la quale noi ci stiamo rapportando sarà molto attenta nel selezionare queste persone per cui voglio dire io credo che sia un passo di grande civiltà per aiutare persone che vivono situazioni di disagio A Pescara i numeri dicono che la popolazione over 65 è in continuo aumento Considerando le situazioni in generale di grande difficoltà che vivono le amministrazioni noi per quanto ci riguarda stiamo cercando di trovare strumenti anche alternativi ai soliti strumenti per cercare di venire incontro a questa popolazione che cresce e voglio dire legata al fatto che naturalmente l'età media si allunga e quindi cresce questo tipo di popolazione Oggi e domani Isel farà un volantinaggio per spiegare il sì al referendum sulla questione trivelle Sì contro le trivelle di Febo perché? Il sì è un impegno categorico che noi vogliamo prendere per la costruzione di un modello di sviluppo sostenibile non solo della nostra regione ma della nazione è su questo che noi lavoriamo perché c'è da mettere al centro dell'attenzione gli impegni assunti a Parigi con COP21 che riguardano soprattutto i cambiamenti climatici che riguarda soprattutto un nuovo modello di sviluppo legato alla riconversione ecologica alle fonti rinnovabili e soprattutto all'efficientamento energetico Nei prossimi giorni in questi giorni farete anche del volantinaggio per ribadire questa vostra decisione di votare sì saremo tutti i giorni in mezzo ai cittadini per spiegare le ragioni del sì e per spiegare le ragioni per cui l'Italia deve avere uno sviluppo sostenibile diverso Il liberismo dei popoli nella libertà questo è il titolo di un incontro dibattito che si è svolto ieri a Montesilvano organizzato dal senatore di Forza Italia Antonio Razzi Liberismo dei popoli nella libertà il senatore Antonio Razzi organizza un convegno un momento di incontro e anche di riflessione in questo momento l'attenzione è posta su cosa? Ma più che altro per quello che sta succedendo oggi specialmente nel nostro partito ma in tutti i partiti c'è molto movimento doveva essere presente Paolo Romani viene il senatore Ceroni ma viene due personaggi anche da Roma Sergio Santoro che è presidente della sesta sezione degli appalti a Roma e poi viene Giuseppe Santoro che è il presidente della Corte Costituzionale personaggi di spicco che vengono e che mi stanno vicino ma non solo politicamente ma anche per motivarmi a lavorare di più e fare di più per l'Abruzzo e gli abruzzesi In questo momento storico poi Forza Italia vive un'altra frattura in qualche modo quella del centrodestra si parla di Meloni e si parla di Bertolaso in qualche modo si torna a non essere d'accordo anche in questa nuova elezione che fa riflette Ma vedi qui ho notato che il primo che si alza la mattina cerca di comandare non lo so ci sto riflettendo chissà la prossima settimana annuncerò anche io che mi candiderò a sindaco a Roma Un altro momento importante per questa giornata è anche dedicato alla beneficenza Sì abbiamo un ricavato per l'ACBEL che poi consegneremo proprio al Presidente mi sembra una cosa giusta almeno io mi sento molto di fare solidarietà quando si può a chi ha bisogno Questa è una donazione che viene rivolta all'ACB proprio dal senatore di Forza Italia in qualche modo cerca di stare sul territorio in questa occasione come ha avuto modo di incontrarla ha avuto modo diciamo incontri con persone diciamo della città che hanno illustrato le attività dell'associazione e la promessa del senatore è quella di venire a vedere effettivamente quello che accade nella nostra casa È una soddisfazione in qualche modo continuo a esserci sostegno per l'ACB e in questa occasione si parla di fondi che servono e vengono destinati a cosa? Naturalmente i nostri pensieri primari vanno sempre alla gestione della casa alloggio e al trasporto casa ospedale casa che sono un pochettino i progetti indissolubili che andranno avanti negli anni perché sono di base per le famiglie per tanti motivi non soltanto per dare un aiuto così umano ma anche un discorso oggi come oggi anche un aiuto economico Associazioni e Liberi cittadini domani in piazza a Pescara per dire no al razzismo al terrorismo e alle guerre la manifestazione vuole essere anche una risposta importante per l'integrazione No alla guerra no al razzismo no al terrorismo domenica ci sarà questa manifestazione a Pescara una manifestazione che coinvolge tante associazioni Sì questo è vero per cui invitiamo tutti quanti di venire a partecipare in questa manifestazione come è visto dal manifesto contro la guerra contro il razzismo contro il terrorismo è fatta da diverse associazioni organi sindacali sociali parte politica di sinistra associazioni emergency Ananca sogno di immigrati siamo tutti insieme in quel giorno anche movimenti sulle tesche tutti quanti insieme domenica 20 alle ore 16 a Piazza Salotto venite in manza così sarà una giornata di festa di solidarietà di fratellanza è anche una manifestazione invece per dire sì all'integrazione sì all'integrazione sì a fratellanza sì ai diritti non negati marzo aprile maggio a Pineto sono i mesi dedicati alla prevenzione la campagna in collaborazione con la farmacia comunale con la ASL di Teramo vediamo prevenire alcune delle patologie più temute come quelle cardiovascolari o tumorali ed altre in grande espansione soprattutto tra i ragazzi come la celiachia questo è l'obiettivo della primavera della prevenzione di Pineto un calendario di incontri che sono iniziati nei primi giorni di marzo e che proseguiranno fino alla fine di maggio per sensibilizzare la popolazione rispetto alla importanza della prevenzione Pineto decide di parlare di diritto alla salute prevenzione appunto per quanto riguarda il cancro cancro al seno cancro al colon alla prostata prevenzione all'osteoporosi parlare di celiachia altro argomento importantissimo molto presente tra i bambini a scuola e infatti sarà anche la scuola coinvolta in questo progetto perché alcuni incontri saranno proprio effettuati e contestualizzati all'interno del contesto scolastico l'iniziativa vede assieme l'amministrazione comunale di Pineto la farmacia comunale l'ASL di Teramo molte volte si pensa alla sanità solo come l'ospedale il paradosso come se la gente volesse ammalarsi noi dobbiamo cercare anche di evitare che questo accada la prevenzione in tutte le sue forme è un obiettivo dell'intero stato italiano che deve essere perseguito attraverso l'ASL cioè evitare che le persone finiscono in ospedale e questa di oggi con i comuni con i territori è un'occasione importante e tra gli appuntamenti alle pendici del Gran Sasso torna per l'undicesima edizione la suggestiva rappresentazione vivente della Passio Cristi in programma d'Ornano Grande di Colledara domani domenica 20 con il contributo di circa 40 attori e figuranti Ornano Grande di Colledara dà vita a una narrazione avvincente della durata di circa due ore dedicata alle ultime vicende della vita di Gesù Cristo della vita terrena di Gesù l'arrivo a Gerusalemme l'ultima cena il tradimento di Giuda nell'orto degli Ulivi la condanna di Ponzio Pilato il Calvario con le varie tappe fino alla scena della crocifissione e resurrezione la manifestazione è curata da Giovanni De Dominicis una manifestazione che si fa ormai da dieci anni alla quale intervengono tutti dai bambini alle persone più anziane ripercorriamo tutto l'evento con l'arresto di Gesù i vari processi la flagellazione tutto questo grazie a tutti i partecipanti che ogni anno rinnovano la loro passione per far sì che questa manifestazione vada ancora avanti ed è sentita da tutti praticamente la rappresentazione vivente della Passio Cristi è promossa dal comitato organizzatore con il patrocinio del comune di Colledara in collaborazione con il circolo culturale Ornano Grande la proloco di Colledara il gruppo Alpini di Ornano e la parrocchia di San Giorgio fortunatamente abbiamo delle persone che si impegnano ogni anno per questo evento li ringrazio a nome dell'amministrazione a nome di tutta comunità e spero che col passare degli anni possa solo che incrementare quello che è già una visibilità a livello locale Passiamo ora alla pagina sportiva nel pomeriggio il Pescara partirà per Crotone dove domani giocherà le 17.30 per uno dei posticipi della 32esima giornata come era trapelato nei giorni scorsi Mandragora giocherà al centro della difesa con Fornasier recuperati Verre e Crescenzi che saranno in campo al pari di Zampano che ha scontato il turno di squalifica davanti Lapadula Caprari e Benalì la presentazione del match nelle parole del tecnico Biancazzurro Massimo Oddo Il Crotone sta facendo un campionato strepitoso e merita di essere lì ovviamente questo nessuno glielo nega ci mancherebbe credo che abbia un mezzo piede in Serie A Massimo e il Cagliari perché il vantaggio è enorme e certo nel calcio può succedere di tutto ma se gli succede quello che è successo a noi lo può perdere e probabilmente in queste sette partite avremmo meritato molto ma molto ma molto di più di quello che abbiamo raccolto purtroppo il calcio è anche questo e con questo non voglio dire che non ci assumiamo le nostre responsabilità perché se perdi evidentemente qualcosa sbagli e abbiamo lavorato tanto anche in questa settimana su quelli che sono i nostri difetti sempre cercando di migliorarci di limare quelli che sono i difetti ma tenendo ben presente quelli che sono i nostri pregi che non ci sono mai mancati quindi non dobbiamo perdere di vista le nostre sicurezze le nostre certezze che è fatto di di aggressività di gioco di di creare opportunità da gol e senza mai perdere di vista quelli che sono i nostri difetti per cercare di evitare errori che abbiamo pagato a caro prezzo giocare a Mandragora dietro per tanti motivi uno su tutti perché ho due centrali diffidati e c'è il rischio di arrivare a Terni senza un centrale di ruolo questo è il motivo se vogliamo principale e poi perché penso che in questo momento Mandragora possa possa dare qualcosina in più dal punto di vista della personalità del palleggio del della serenità anche sì Verre sta benissimo Crescensi ancora qualche piccolo problemino nel senso che ancora un po' fastidio soprattutto nel nel calciare con il piede sinistro e credo che dovrebbe scendere in campo ma se non ce la dovesse fare abbiamo pronto Vittorini La Virtus Lanciano conta di proseguire la sua risalita in classifica nel primo di due turni consecutivi casalinghi tra poco però al Biondi arriva una delle squadre più attrezzate del campionato il Cesena di Massimo Drago IV in classifica per le ultimissime ci colleghiamo in diretta con Alessio Giancristofaro Alessio a te la linea sì buon pomeriggio Elisa hai detto bene arriva il Cesena squadra che senz'altro non verrà farsi una passeggiata qui a Lanciano dunque noi abbiamo già le formazioni ufficiali te le leggo rapidamente qualche novità in casa Frentana si era annunciato il rientro dei titolari di Salviato non è così sceglie la continuità primo Maragliulo anche se nella linea di Mediana ci sarà una novità giocherà titolare Rocca assieme a Bacinovic dunque Cragno tra i pali difesa a 4 con Aquilanti a Menta il confermato Regione e Di Matteo sull'out basso di sinistra come detto Bacinovic e Rocca in Mediana poi Vitale con Di Francesco e Mari Lugo unico punto di riferimento offensivo Nicola Ferrari a disposizione Casadei Salviato Bonazzoli di Filippo Bastola Padovan di Benedetto Milinkovic e Giandonato questi gli uomini gli effettivi a disposizione di Primo Maragliulo risponde invece il Cesena di Massimo Drago con Agliardi Lucchini Rezzetti Senti Ragusa Diuric con Perico Rossetti Ciano e Magnusson a disposizione con Miss Valzania Candara Garritano Palasco Capelli Chesse Severini e Fontanelli come detto questa la squadra di Massimo Drago Fischia Nasca di Bari c'è il sole a Lanciano anche un'iniziativa della società con prezzi più popolari per incrementare l'attuenza al Guido Biondi è inutile dire che è una sfida molto importante per la Virtus Lanciano la prima di due sfide in casa e proprio in questa settimana prepasquale la Virtus potrebbe ipotecare in maniera seria la permanenza nel campionato di cadetteria per il momento è tutto a te lì grazie Alessio buon lavoro scendiamo in Lega Pro match di cartello al fattori l'Aquila riceve infatti il Pisa di Gattuso secondo in classifica impegnato nella rincorsa alla capolista Spal l'Aquila però ha bisogno di punti salvezza e per le ultimissime ci colleghiamo con Gianmarco Menga Gianmarco buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori dicevi bene partita di cartello l'Aquila Pisa il Pisa che ormai ha il fiato sul collo sulla Spal capolista solo 4 punti distano appunto dalla Spal la Pisa di Gattuso l'Aquila avviene da due sconfitte consecutive fuori casa e ha bisogno di fare punti perché è di nuovo immischiata nella zona play out nonostante i 7 punti restituiti dalla Corte d'Appello in classifica per la penalizzazione sul calcio scommesse ancora non abbiamo le distinte quindi ipotizziamo l'11 titolare di Perrone anche in base alle indicazioni della vigilia si dovrebbe cambiare modulo almeno così si era parlato 3-5-2 sicuramente fuori triarico per infortunio lo ha messo K.O. praticamente una botta rimediata a Sant'Arcangelo domenica scorsa per il resto dovrebbero essere confermate sia San Domenico che Perna in attacco in difesa probabile usiamo ancora il condizionale aspettando l'ufficialità il rientro di Maccarone che tornava dalla squalifica Perrone potrebbe affidarsi a lui e alla sua fisicità per cercare di contrastare l'attacco del Pisa con Lores Varela e Usepi sugli scudi per ora è tutto appuntamento alle 15 per il fischio d'inizio a te grazie Gianmarco buon lavoro anche a te il Teramo invece sarà in campo più tardi al comunale di Arezzo alle 16.30 gara senza particolari assilli di classifica per due compagini che occupano un tranquillo centro classifica e danno l'obiettivo di chiudere bene la stagione per i toscani Dezio Lino Capuano sarà tridente con il gioiellino Tremolada alle spalle di Greco e Mendicino nel Teramo per rotta recuperato dall'influenza fuori causa Cenciarelli per un affaticamento muscolare e Petrella che ha avuto il riacutizzarsi del problema che lo ha tenuto fuori nei giorni scorsi dirigerà all'incontro il signor Davide Andreini della sezione di Forlì e lasciamo il calcio al via domani la semifinale di C-Silver di basket tra il basket Teramo 2015 e la palacanestro Silvi palla 2 al Palas Capriano alle 18.15 serie al meglio delle tre partite giovedì prossimo invece la gara di ritorno la vincente se la vedrà con la vincente dell'altra semifinale tra Airino Termoli e Magic Basket Chieti ascoltiamo nel servizio il presidente della BT 2015 Ermanno Ruscitti arrivare alla zona playoff hai già una grande soddisfazione l'obiettivo minimo che ci avevamo previstati come quando siamo partiti con questa nuova avventura gli sforzi che abbiamo fatto nella composizione della squadra erano chiaramente finalizzati per avere il miglior risultato possibile per adesso abbiamo raggiunto quello che erano le nostre aspettative poi il futuro spero che sia radioso come noi ce lo immaginiamo le gare cominceranno i semifinali cominciano domenica al palazzetto con Silvi c'è l'andata il ritorno sarà mercoledì a Silvi l'eventore è bella il 2 aprile ma dopodiché si passerà alla fase finale che comincerà comincerà il 10 aprile e laddove noi in maniera poco scaramantica fossimo già in finale giocheremo la prima in casa con Termoli per poi affrontare altre 4 sfide sempre con loro perché la finale è al meglio delle 5 partite è chiara l'occasione per lanciare un invito a tutti i terramani e al posto di Palacanestro di venire a sostenerci intanto la prima partita delle semifinali pre-off e poi continuare a seguirci fino al nostro obiettivo segreto ma neanche tanto ed è tutto per questa prima edizione del TG6 ricordo tra poco l'appuntamento con Diretta Stadio in studio Andrea Costantini grazie per l'attenzione e buon proseguimento a tutti i terramani